ehi ragazzi ciao a tutti la nick bentornati qua su farming simulator 19 nella mappa coronella e a proposito di coronella l'ho aggiornata di nuovo e si perchè visto che abbiamo fabbriche buggate che devo fa? dico proviamo ad aggiornarla tanto peggio di così non potrebbe andare no? quindi l'ho aggiornata a questo punto ovviamente oh porca miseria sicuramente sicuramente devo rifare la montagnetta eh sicuramente saranno cambiate un po' di cose ora che ho aggiornato la mappa probabilmente devo rifare oddio ho buttato un po' di soldi probabile che devo ah no è rimasto modificato meno male ah no no è rimasto modificato questo è un bene temevo che devo spendere di nuovo dei soldi fatto sta che quindi vorrei riprovare di nuovo la fabbrica questa qui dei girasoli naturalmente no? mi pare ovvio ora che ho aggiornato di nuovo la mappa pare ovvio che vorrei un pochino vedere la situazione quindi ah già volevo vedere un'altra cosa mi stavo dimenticando dobbiamo vedere al biogas se per caso non c'è più come si chiama la cosa che ho creato devo assicurarmi che c'è ancora ah no la montagnetta c'è meno male oh non mi ha fatto cambi meglio così meglio perché l'ultima volta me li ha fatti i cambi gli alberi sono ricresciuti? forse gli alberi sono di nuovo al loro posto? quelli che avevo abbattuto? forse sono di nuovo al loro posto io ogni volta che aggiorno la mappa devo buttare giù gli alberi mamma mia ora vediamo vabbè ma stavolta li lascio ogni volta che aggiorno la mappa non c'ho voglia di tagliare di nuovo gli alberi cavolo questi alberi qua è assurdo vabbè eh sì sì e so di nuovo lì gli alberi dai è probabile non lo so ora vediamo un po' ora la vediamo allora innanzitutto selezioniamo com'è che si chiamava? ah biogasse bi 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 biogasse allora vai al bb vai al bb no a diaverità mi sa che gli alberi non li ha ripiazzati perché qui c'era un albero e non c'è quindi penso che non ci capisco niente perfetto allora qui c'è ancora un albero di quelli che io dovrei rimuovere è rimasto qua abbandonato e me ne so scurdato me ne so dimenticato di questo alberetto etto etto e dov'hai etto? fatti fare a due etti e quaranta vabbè poi lo andiamo a vendere tanto vabbè che vuoi che vale tutta sta fretta di vendere non c'è allora boom quindi no no gli alberi non ci sono no 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 vabbè questo non importa va bene allora ok tutto ok quindi che cosa sono questi girasoli e allora dove che li devo mandare a questo punto? di nuovo dei cavalli e per forza cavalli giusto? non c'è sì riproviamoci che vogliamo fare cavalli e il latte che cosa ci ho fatto con il latte? c'era ancora quel bug? non mi ricordo più era bugato con il latte? ci abbiamo provato? non mi ricordo che abbiamo fatto l'ultimo gameplay? non mi ricordo c'è una memoria proprio scarsa non mi ricordo che ho fatto nell'ultimo gameplay a parte il formaggio formaggio? no non l'abbiamo fatto il formaggio non mi sto ricordando vabbè facciamo una cosa alla volta proviamo di nuovo a fare i girasoli per intanto qui quest'erba la famo avanti buono così aspetta che devo fare poi? non mi sto ricordando più c'è da trebbiare quindi devo un attimo capire la situazione ok ma ci giriamo i vari macchinari per capire cosa devo rimettere in funzione a posto va bene così chiudi spegni spegni chiudi chiudi quindi farm questo non serve più ho sbagliato ok abbiamo a simo che porta indietro il tutto quindi questo è da rimandare sul terreno numero boh quale? numero 5? 5 allora ma devo un attimo capire se c'è un altro scii porca miseria mamma mia quanto l'odio sto coso stretto qui è come quando uno indossa una maglietta di una taglia più piccola è uguale a me sta mappa mi sembra come indossare una taglia piccola comunque sì effettivamente c'è un'altra via di uscita qua è vero questa via di uscita dovrebbe essere più comoda ma effettivamente lo è quello dove va? vabbè riccardo porta questo indietro vabbè combà non posso suonare perché non sto guidando io allora beh quindi qui c'è da finire oh con i girasoli posso anche finire da solo perché tanto a sto punto è andata quindi ma devo trovare ah già lo stiamo ah vero 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 è in uso qualcuno si è andato a schiandare quando appare operaio 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 qualcuno si è schiandato bene cominciamo ad apri youtube ok sicuramente si è schiandato quello con la falciatrice ok ha raggiunto cavalli non è proprio un bene totale comunque troviamo quello che si è schiandato allora e fino a qua ci siamo bene quindi abbiamo riportato a casa questi attrezzi qui adesso li andiamo a conservare piano piano poi stacchiamo quello davanti e ci siamo ora più che altro a me interessa capire se possiamo vendere oppure no cioè più che altro a me interessa capire adesso se possiamo fare oppure no l'olio di girasoli adesso che ho aggiornato la mappa perché sennò sinceramente non so che cavolo fare allora questo mo lo posiamo qua non ho mai capito il latte che ho messo qui dove è andato a finire non lo so allora dov'è? eccolo qua allora ho fatto una mezza schifezza a portarlo qui perché ora per uscire di qua devo entrare qua dentro che non c'è spazio non c'è dobbiamo entrare e uscire per andare nella fabbrica dei girasoli ok ma io non l'ho segnata sta fabbrica in teoria no? non l'ho segnata ma non ha senso segnarla se dovesse essere buggata poi cercheremo di capirlo allora dunque dobbiamo un attimino staccare quello che è dietro perché tanto alla fine è complicato fa manovra qua con tutte e due vediamo se stavolta è la volta buona ma neanche proprio ammazzata è la volta buona ok proviamo di nuovo a comprare sto posto niente allora ma allora scusa o è buggato veramente cioè o so io che non sto a capire cioè ci sono stampati i girasoli ma non li vuole non ne vuole sapere u destra indietro niente non c'è non c'è no non mi fa scaricare no raga è sta cosa ma è sta fabbrica o è una piata per i fondelli accidenti non capisco aspetta è quello che cos'è perché lì c'è un altro punto pare no ma neanche qui è quello giusto sinistra no destra niente neanche qua boh ma come caspita funziona sta fabbrica praticamente è come se non esiste perché proprio c'ha i punti c'ha tutto però però non funziona non funziona porca miseria e sarà buggata alleluia sarà buggata non lo so posso provare che prova ad abbassarla non ci risolvo niente il trigger è basso è alto forse il trigger è più in alto è più in basso vogliamo fare una piccola prova tanto ormai che siamo qua se io provassi un pochino l'ho fatto un po' salire vediamo se magari il trigger è più in alto più in basso proviamo facciamo facciamo due tre prove cioè perché boh a me pare impeccati peccato proprio sto provando quindi magari il trigger non viene beccato l'ho alzato eh ma non c'è proverei ancora a sollevarlo di più e in caso poi proviamo ad abbassarlo di più trigger alzatissimo e non c'è nisba proviamo allora ad abbassare ho abbassato un po' il trigger niente da fare non funziona ragà la stampede ci abbiamo provato anche con la mappa aggiornata ma non va quindi boh peccato niente più olio eh sì olio eh niente più olio di girasoli ragà eh siamo passati dal dal dalle bottiglie al niente però lo faceva l'olio eh fin cioè lo stava a fa di spawnare spawna però non accetta mosti girasoli ci abbiamo provato quindi mandiamolo indietro che dobbiamo fa farm eh boh non lo so ragà è un peccato se sta mappa è buggata ora riportiamo indietro qui per intanto andiamo avanti con l'insilato noi tanto ne abbiamo in abbondanza funziona a meno questo ok a meno questo va quindi vorrei fare una cosa con quest'erba io con quest'erba vorrei con quest'erba vorrei provare a fare il compost ci abbiamo provato l'altra volta col fieno era compost sì ci abbiamo provato l'altra volta ma no ho sbagliato sto trattore non è buono beh non è dei migliori comunque l'altra volta ci abbiamo provato col fieno non andava stavolta ci proviamo con l'erba vediamo se almeno l'erba in quella è buona se no non lo so manco io che cacchio devo fare con tutta sta roba in teoria con l'erba ci posso fare a parte il cibo per gli animali ci posso fare come si chiama oh non mi viene il nome l'insilato eh ma porca miseria fa una fatica assurda sto trattore lo trattore non mi soddisfa manco un po' in quest'ambito è di una lentezza in discesa va bene ovviamente in discesa no problem ovviamente allora facciamo una cosa mandiamo mandiamo chi dico io a prendere sul terreno numero 16 quel poco di raccolto che è rimasto visto che tanto va bene qualsiasi cassone e e continuiamo qua intanto qua continuiamo vediamo che ci possiamo fare questa bella erbetta comunque ho aggiornato anche la global company pota poteto qual è ah è patata al massimo vero certo che però che scocciatura sta cosa delle patate però in teoria attivo taglio attiva taglio balle che cavolo vuol dire aiuto cavalli vabbè boh pensavo che c'era qualche novità ma non vedo nulla di particolare comunque voglio cambiare la lama della trebbia cioè quella del mais non mi piace la lama attuale perché è complicato portarle in giro per via del per via della sua grandezza no vorrei prendere la lama di un'altra mia di trebbia quella che si ripiega ovviamente non la pigliamo mo la prenderemo quando serve un'altra volta però vorrei prendere questa la prossima volta al momento abbiamo questa vorrei questa perché questa si ripiega è molto più facile andare in giro con questa alla fine sono tutte e due della stessa grandezza 6 metri 6 metri ma almeno questa si può chiudere è molto comodo in questa mappa avere una lama come questa perché la lama quella che abbiamo è problematica la lama attuale è dannatamente problematica è una lama che non riesco a portare via soprattutto poi c'è da dire che il carrellino mi si incastra dappertutto quindi proprio mi trovo scomodo ripara vediamo se possiamo fare già comunque qualche riparazione già che ci siamo pare che non c'è altro allora ragazzi boh pare che si è bloccato qui cioè salvataggio ma non smette di salvare ho paura che si è rovinato il salvataggio forse aver aggiornato la mappa ha causato qualche problemino mi sa salvataggio del contenuto è rimasto bloccato ora che se fa l'unica è dover riavviare il gioco ma potrei aver rotto il salvataggio forse il salvataggio si è rovinato a questo punto quindi è un bel problema ma è già da due minuti così quanto di solito il salvataggio dura cinque secondi quindi ho paura che sto salvataggio non sta andando a buon fine cavolo ma mi sa che sta mappa hanno pochi problemi eh ok cioè uno uno ha diritto cioè che fa non aggiornò la mappa dava già problemi prima e molita ora che l'ho aggiornata dagli altri problemi niente mi sa raga che prova a riavviare il gioco vediamo che caspita sarà successo eh mi sa che il salvataggio è andato a farsi benedire no non è questo si mi sa che il salvataggio è andato a farsi benedire eh si era qui il salvataggio se consumato rovinato perso magnifico in teoria ci sono i backup però se ormai la mappa da sto problema è un grosso problema ormai la mappa l'ho aggiornata non si può tornare indietro quindi è un bel problema comunque sta mappa non mi sta a far impazzire mo perché voglio dire non le cose non funzionano non stanno funzionando raga comunque il tempo un po' è passato io penso che a sto punto mi conviene fermarmi qua ci rifletto un po' su è possibile che decido magari di cambiare mappa di fare qualche cambiamento perché comunque non mi sta a far impazzire mappa già da un bel po' non lo so vediamo ditemi un po' voi non lo so ma sinceramente tornare indietro di versione ha poco senso perché tanto il girasoli che non vanno un po' tutto non va fare l'insilato se bug fare il compost se bug una mappa dei bug per quanto mi riguarda ricominciare da capo non ha senso tanto meglio cominciare una mappa nuova diversa non ha senso per me cominciare la stessa mappa da capo ma aggiornata non ha senso ormai la conosciamo sta mappa secondo me ha molto più senso eventualmente magari fare una mappa nuova quindi ci penso un po' su raga è inutile che piglio il backup per ricominciare da capo la partita perché senso non ne ha direi a sto punto che non ha senso col rischio che poi dopo mezz'ora mi ritrovo con lo stesso problema del salvataggio che si perde quindi per ora penso che mi fermo qua raga non lo so in caso voi commentate ditemi un po' la vostra ma penso che forse è meglio nel caso cambia mappa perché è inutile andare avanti con una mappa buggata vabbè quindi raga spero che comunque il gameplay fino a qui vi sia piaciuto o eventualmente la serie addirittura quindi commentate scrivetevi lasciate un bel pollicione in su dai e ci becchiamo presto ciao alla prossima ciao a tutti 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 Grazie.